Saluto a tutti, sono Dora Antonella e sono sempre qui a tutti, con questo tavolo, poi ci sono dei stili sempre stilettoso, trastoso e trasticettoso. Tantoso, oggi purtroppo ci sono delle cose di stili pubblici. Adesso decidono che questa volta facendo un'idea di stilettoso, l'altra volta si fa mostrare un'idea di stilettoso. E oggi ho visto anche dei modi di stili e delle gambe, specialmente con la maglietta, che potremmo usare i suoi mesi per un mano su i dati. Quindi magari chiedevi anche con il nonno, o anche con il bobbio, che insomma ormai è in mano su. Se oggi mostrare qualche di tutte le cose che potremmo andare bene, può usare il fuoco, e poi ci sono un'idea di stilettoso. A me in questo programma mi piace la seguizionale, come ho detto tutto e tutto. E intanto, cominciamo oggi con questa magliettella per le due spi ricoccanti. Ma la magliettella, dei gottoni, semplici semplici, però che si è? Questo è tutto affiazza, affiazza. E' bella l'altra, quindi mancai che tenessi un bobbio, un babbo. Oppure, ho saputo che, come ragazzi, del mio castiglio, a volte si riponi qualcosa di leggero, dei gottoni, però che, insomma, si è tutto questo giusto perché è stato affatto. e se non c'è, se non c'è, come ti c'è questo? E' questo ha fatto tutto il bel bordo. Dopo, sempre, avrai attento sul perché della come ti vuoi essere rifiniti questa roba. Tutti questo è importantissimo. E' no, dopo che lasciò qua, anche qualche volta si sganciò fa tutto. E invece, quando è questo, è ben rifinito, e costa tutto il filo di scucia, ho detto che ci sono i commenti da comprare che non si scoffa e non è nulla e noi portano questa chiusura a polosinata con il tetto bianco quindi ho detto quando ha parecchio dei blu jeans si diano dei poneri benissimo ha parecchio dei blu jeans oppure di chi no un grazionetto che si adatta di uno di questo scopo di sinoputa che si è tutto fatto a fiasa fiasa e c'è tutto scopo di azullo birdi grogo colori arancio ti devo dei poneri benissimo ecco che la paga puro è fatta dieci e questo è supermoderato teoi ma ecco qua prima saponata cosa vuoi spiriti coccanti mandato uscire avrà un'altra ancora uso spiriti coccanti chi è questa tanto su questo voglio che vedo insomma di aici è sti come si sa da un po di nani acido però a me mi prega mi prega acido tutto perché mancai schifo un tegloso spiritoso di esatto su da gradessenti e quindi questo è fatta e grossiterà e tutta su su gotoi e su poche dedo a nido d'appe come tesinara da la castellina ma costruccio dei commenti è fatto ecco e su poche dedo a nido d'appe quindi a vado poche dedo più grossiterà e più robusta costa secondo i commenti si diano dei poneri fin se si può andare a traballare e quello che ho usato su traballare ancora su sarto costa si diano dei poneri benissimo e tanto su però siamo la mostrai fin se se can guaparica de camisa sa a castellina costa perché non la potessi non potessi intendi come te bella sa roba questa cavarra è proprio ben 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 mordi mordi già già i vari di te desera questo è tutto questo è una misera acqua dritto su questo è il cino a ci portata il buttonetto su ma questo è tutto secondo me se devo dei poneri con due ragioni della roba e da potessi concordati e due ragioni della modu questo è sta mega lunga quindi se noi come ti in comienza da riparo i dentro sul frio su ammiriglia con noi questo andrà benissimo e poi se devo dei poneri fin se lo comenta il ribasiero che comienza da fare il prof costa a sutta di un maglionetto magari scollato a voi o di chi no aici a scollatura d'onda ma che ammisa di aici secondo me andrà benissimo ma che se hai che inizio del spirito zed ci porta da una bucciacchetta e quindi accettato si dovete concordare in differenso modo costa invece se questo va che detto pruso serie a tegna e usana un tag est insomma fatta tutto a fiasa fiasa e cittotto basti a vedere più classica costa sti se ovviamente più classica casti ai è stata mai da bruza e quindi gusta se devo dei pommeli ma che insomma chiesi solo che vedete quando grazioni e doveva che vedo se io se volete un bel uscito devo ne sento le strazioni e con questa la rai friscuso senza adesso dai insomma desideri o va che vedo aici stracciolato ma uero e avrà rai se l'impiuso e ordinato ma che esi avessi uso aici puntata sa roba esso va che vedete useria ecco no esti spiritosa mera ecco qua costa costa è proprio bellissima secondo me è proprio bellissima costa questa 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 è veramente fatta come ti porta da ecco tutto che sei come ti è a fiasa fiasa però i fiasa non fonti fattasa con su colori no ma con una specie del ricammo parenti già già che hanno fonti fattasa ricamata a ago e questa non mi sa che ha dato metà bella a me il mio braccio in meta e sta mai dall'ombra e sta mai dall'ombra e quindi gusta se devo dei pommeli e fin se c'è il cassia pochetti lo sapo hanno dato un gruppetto di schizia po fatto birri prima e noi se ti ho concordo poi ti ho costruito di tutte colorate questo coloro pochetti dito un strano è una specie del beige un pelò pochetti dito fin se marroncino ecco non si comprende bene e comunque pensavo ma di piccolo dei gruppetti su di schizia pochetti non sta tra puntata e se fatto birri con venti di stavei castiglia e raguvalo poi si concorda uso questo colore lo più particolare e fin se se sa tutto come è fatto dopo non hai decci non è che nel sabbio altras ha mai sapere i dati ecco qua ecco qua ecco se hai commenti ci sta bene questo troppo letto ecco qua castigliai puntata costrua si biesi come te e quanto dottor uso due mezze tinte e osannano puntata costrua questo è una specie del valore tortora e questo invece si è una specie del beige che però pare di assimilarsi al suo colore cinese quindi secondo me questo è un abbia mento prageri mera e noi però si hanno fai birri aspetta questo ecco questo di aici si hanno fai birri un'altra bella varieta la cosa che mi sa ecco tanto ci con te ma costruire così da mostrare proprio di accanto non scegli che sia troppo di aici che ci sia troppo luci ma io vedete se ecco e castigliai commenti sta roba è fatta tutto a puntina e due piti credeggioso i esti una roba che tocca in dita avrà proprio bella bella frisca modi esibì questa roba buona e poi guarda questo costo buttoneggioso che fonti e due colori che lo vorti fonti marroncino su non fonti solito buttonesi buttonello bianco su tanto su se calitati dessa roba esti esti importanti mera quando sceperaisi mua cammisa e devi teni conto della mera scossa però vabbè si consiglio sempre che se i suoi mesi desi fai accompagnai dei popita cose osatruso o di chi no di un'amica della sposa della mamma osatruso tutta cà osatruso tu suoi mesi insomma quando sceperaisa roba da pubblica a volte sa si incertaisi ma a volte sa no ma che è si comprava magliette da sei buon dottosu però quando si tratta da desi comprai una cammisa o trasto o paghe dei due buon dottosu che si vede accompagnai di una femmina sceperai sempre meglio a meno che non teniasi un negozio di fiducia invece si tratta da bene e che la gente che non conosce il paghetto non conosce il gusto cosa osatruso a volte sa sedi anzi metà metà volta sa a volte sa comprasi il trasto e poi dopo appiccato il suo guardarroba un po' anche che tempo e questo è un po' che è un po' che è un po' è un po' bello che è un po' che un po' è un po' è un po' che è un po' è che è un po' un po' che un po' che è un po' è che un po' che è un po' uno che una un po' così consiglio di averli esercitati a guardare la roba che vieni in dove, fuorogliati a guardare la roba di questi stati, e non c'è... ti vedeci a cattare qualcosa... che è un tesoro... Tanto questa cammisa non si ti faccio bene, ecco, lo so, che stia un paghetto, diarici, tutto un trea, però è comunque un trasteghetto che insomma, si figura cosa sua, da validi, poi ti mancai una sede elegantissima, questa roba è bella meta, è questa roba buona, come ti si narra, quindi quando si comprai sua cammisa, è importante che che stiesi, certo come è fatta, i bottoni, tutto questa cosa, però questa roba è importante meta, poi ti, che si picai su una cammisa troppo sintetica, mancai dopo pochetti di sudarsi, diventa, insomma, un pagodragire, ecco come te cosa, o di chi no, che sei allergico, o di chi no, andava bene, che invece si sa roba è bella, mancai su tagli uno sia da eleganti meta, o se lo so pagrai tranquillo su ca, su trasto da andavo se biti ai largo, anche tutto, quindi fesi, fesi, per una bella figura, con due trasto di roba bella, mancai di forma moderna, brusche, una cammisa, mancai, che ho le idee si eleganti, però mancai, è fatta una roba scadente, quindi dopo pochetti di due, si scerava, ecco. Quindi il suo consiglio, cosa mia, è sempre che stiai, che proprio tocca il da, sa roba, com'è te fatta una cammisa. Però, prima di si salutai, se io lo fai birri, due strastigie, due aici, pro su del maniscio, poi da tutto questa cammisa sa, vabè, c'entriate elegantesi, pro spago elegantesi, però se io la mostrai a traduare, ma gli a te da sa, hai c'è del maniscio, poi da mancare, chi sei somminesi che andandà ancora suzzato, e comunque non le nzei a padre mostrai onisi, ci vuoi un tempo, e poi da sa cattai sa, e tutto, ma gli a te da sa, a tipo gusta, hm? Chiesti proprio, semplici semplici, ma gli a te da sa tipo gusta, chi? Ho detto, se davanisi, finché se qui sgraccioisi, che andais a traballare, sei tranquilloso che, hm? Sesi, limpioso, ordinoso, e non febri, da figurare mancare, che cancuno si vedi, torna indiente del suo sarto. Ecco, quasi hai, questo è finché il spirito a zedda, sa mostro da accanto, ecco, come te fatta, sa roba. Ecco, ora ho saputo che sono un po' che vedete tutto il modo di essere diverso, ora ho fatto tutto i sommini, ma non so, ma non so, di errati, e veramente loro, con questa roba che si ha fatto bene, fu tutto bella lada, ecco, e spero che questa roba che si ha mostrato, se si approccia, e che magari si dà a che si conosce, se si andrà a servire, se ne vedi, non c'è una volta da uno, di due cose, e non c'è, va bene, ma non è che mi interessi, però non c'è, tra quelle ricchezza, se quando andais a cercare, con qualche camisa o con qualche roba, non c'è, potete essere che con qualche idea buona, però se ti ha paonato. E tantoso, poi ho i buro, se saluto, se vi è usato, se vi è avuto e a seguire a tutti. Grazie.